Per tutti noi, perché abbiamo avuto una lezione di vita da Liliana Segre e io credo che il fatto oggi di inaugurare una struttura come questa è proprio sulla scia dei principi di libertà, di integrazione, di sconfiggere tutto quello che vuol dire intolleranza, di discriminazione del diverso, di discriminazione per motivi religiosi, di discriminazione per il colore della pelle, di discriminazione per le idee. Evidentemente oggi questa struttura vuol dire superare tutto ciò e creare una scuola per le future generazioni. Il fatto che oggi ci sia, devo dire che ringrazio la Ministra Zolina è veramente il Presidente Baccari di questo collegamento con tutte le scuole in streaming perché ritengo che l'insegnamento migliore di quello che è stato fatto oggi dalla Liliana Segre è davvero equivale a un anno di insegnamenti di varie materie perché oggi Liliana Segre ha insegnato la vita. E allora dobbiamo dire un grazie a tutti e siamo davvero onorati di essere qui a tagliare questo nastro per questa nuova struttura. Grazie.